Oggi vi parlo di un libro che a me è molto molto piaciuto. Si tratta di questo, Madri spirituali dell'antica Irlanda. Sono quattro storie. Si tratta delle vite delle fondatrici dei quattro maggiori monasteri d'Irlanda. I nomi sono molto particolari, parliamo di periodo celtico, quindi i primi inizi del cristianesimo in Irlanda. Santa Darerka, Santa Brigitte, Santa Ita e Santa Samtan. Qualcuna è un po' più conosciuta, qualcuna meno. Sono figure però molto interessanti. Molto interessanti perché sono pienamente donne, riescono ad amare, a custodire, a esprimere tutto il loro amore per i fratelli che nasce dall'amore di Cristo, ma nello stesso tempo sono perfettamente immerse nella loro realtà. Sono quattro fondatrici di monasteri appunto, quindi governano, quindi dirigono, quindi danno indicazioni, quindi hanno delle sottoposte, delle figlie spirituali. Nello stesso tempo comunque la loro vita è completamente unita a Cristo. Per me è stata una lettura interessante perché anch'io spesso vengo a rischio di essere travolta dalle cose del mondo, dalle cose da fare e invece da loro ho imparato ad attingere prima ancora di dare, o meglio ad attingere per poter dare. Nel momento in cui esse pregano, fanno come benzina, diciamo così, e quindi poi possono essere fruttuose nei confronti delle loro sorelle e dei loro fratelli. Lo stesso deve avvenire per noi. Più siamo legate a Cristo attraverso la preghiera, più ci riempiamo di Cristo, più possiamo dare ai nostri mariti, ai nostri figli, ai nostri amici, alle persone che ci sono intorno. Che cosa hanno di bello queste storie? Sono donne che si sono veramente affidate a Cristo e proprio per essersi affidate riescono addirittura in miracoli incredibili. Tutte le vite, queste quattro vite, sono costellate di miracoli. È una cosa che mi ha colpito veramente tantissimo. Vi leggo per esempio di Santa D'Arerca, che io amo particolarmente, perché i suoi miracoli sono spesso, come dire, indirizzati verso le persone che le davano ospitalità. Lei girava con alcune monache e cercava ospitalità di qua e di là. Si muovevano soprattutto di notte, dice la sua storia, perché così non erano disturbate dalle cose del mondo e quindi potevano, pur camminando, dedicarsi alla preghiera. Un giorno si fermano presso un uomo di nome Denech, il quale era un uomo, dice la storia, povero di beni ma ricco di carità, e uccise un vitello per dare loro da mangiare. L'indomani lo stesso vitello o uno del tutto simile fu ritrovato nella stalla con la sua mamma. Quindi l'ospitalità che esse ricevono viene ricambiata da un miracolo di Santa D'Arerca che fa ritrovare questo vitello, che probabilmente era l'unica forma di sostentamento per questo uomo, lo fa ritrovare intatto nella stanza. Passato un po' di tempo, sempre lo stesso uomo ritrova Santa D'Arerca e le sue sorelle e di nuovo le ospita. Le ospita e offre loro della birra. Siamo in Irlanda, ovviamente, quindi la birra è una bevanda quasi alla stregua dell'acqua, diciamo così. L'uomo non ha tanta birra, però offre tutta quella che ha. Con una benedizione, Santa D'Arerca traccia la croce su questo orcio di birra che il loro ospite porge e da quel momento la birra comincia a traboccare. Questo è un miracolo che a me mette veramente tantissima allegria, perché la stessa Santa dice ad Anek, da questo momento in poi tu potrai accogliere sempre chi vorrai perché stai sicuro il tuo orcio di birra non terminerà mai. Mi viene in mente la farina della vedova di Sarepta che nell'Antico Testamento appunto non ha farina, ma con la poca farina che ha impasta le focacce per il profeta e da quel momento invece l'orcio di farina continua a rimanere pieno. Chi si affida al Signore riceve il centuplo, ma già qui in questa terra e poi l'eredità preparata per noi nel suo regno. Quindi questo è veramente molto bello. Un'altra santa di cui si racconta la storia e che invece è un po' più conosciuta anche nel mondo italiano è Santa Brigid. Vi invito ad andare in visita a Bergamo perché a Bergamo c'è una cappella, si chiama Cappella Suardi, nella quale un grandissimo pittore del Cinquecento che è Lorenzo Lotto ha riproposto proprio un ciclo di affreschi sulla storia di Santa Brigid. Santa Brigid che nel momento in cui riceve la consacrazione si prostra per terra e racconta la storia il terreno fiorisce intorno a lei. Lorenzo Lotto ha un'immagine molto bella, c'è appunto questa predella sulla quale la santa si prostra, arricchita con questi bellissimi fiori. Anche Santa Brigid è veramente una figura strabiliante per miracoli e per cose che lei ha realizzato ed è anche molto intensa come figura proprio perché la sua attenzione particolare è sempre verso i poveri e verso il creato, verso la natura. Noi sappiamo che la natura ci è stata donata dal Signore, dobbiamo averne rispetto, dobbiamo averne custodia sapendo che ne siamo proprio i custodi e quindi bello anche che queste figure ci ricordino l'importanza di gioire delle bellezze del creato che Dio ci regala e nello stesso tempo di averne quella cura che ci permette non solo di gioirne ma anche di utilizzarle al meglio e di tramandarle in tutta la loro bellezza e in tutta la loro fecondità a chi verrà dopo di noi. Ecco sono letture molto molto belle, molto interessanti perché sono proprio molto molto concrete. Io trovo queste figure estremamente concrete. Una grande attenzione per esempio alcune le danno anche agli schiavi all'epoca, naturalmente parliamo dei primi secoli sempre e quindi la schiavitù era molto presente. Alcune di queste sante si occupano anche di avere un'attenzione particolare alla dignità umana. Sono temi ancora molto molto importanti anche per noi in fin dei conti che in qualche modo in questi ultimi tempi stiamo avendo un po' una regressione con una minore attenzione alla dignità dell'uomo in tutti i sensi. Quindi io consiglio veramente la lettura di queste sante che sembrano lontane nel tempo ma in realtà sono molto molto vicine anche a noi. Questo libro, Madre spirituale dell'Antica Irlanda, insieme ad altri libri sempre molto molto interessanti e di gradevole lettura, li potete tutti trovare sul sito di monasterium, monasterium.org. Sono testi che ci aiutano veramente nella nostra vita ad essere monaci, monaci nell'interiorità pur rimanendo nel mondo e occupati nella nostra quotidianità. Ma quanto più riusciremo a diventare uno con il Signore, tanto più ogni nostra occupazione, ogni nostra attività sarà veramente illuminata dalla grazia di Cristo.